Oggi qui in Lega Cop, la nostra matrice ideologica nel senso più liberale e moderno del termine, si svolge un importante incontro di tutti i coordinatori del Consiglio di Amministrazione del Faggio per dare inizio a un ciclo di formazione che riveste grande importanza rispetto alla capacità di erogare servizi sempre migliori. Oggi il tema è l'ordine del giorno, visto che siamo di nuovo nelle pagine di cronaca non come Faggio ma come soggetti operanti nelle case di riposo con il tema dell'aggressività degli operatori nelle strutture. È un tema molto delicato, lo dobbiamo affrontare a 360 gradi, non facendo scandalismo ma gestendo la cronaca per diventare più bravi a effettuare il nostro mestiere in maniera migliore con persone che hanno sempre più gravi bisogni.